Ecco, in Polano siamo qui alla presentazione delle liste della coalizione in centro-sinistra. Del programma, sì. Allora, come saranno le liste, la composizione anagrafica? Tendenzialmente ci saranno due liste, una sarà quella del partito, un'altra sarà una lista civica, 20 miglia cambia verso. Per quanto riguarda quella del partito la tendenza sarà fare la composizione 50-50, almeno genere. Mentre per quanto riguarda quella 20 miglia cambia verso, quella civica, avremo un'impronta più giovane e adesso verifichiamo se riusciamo a fare questo 50-50 o comunque avvicinarsi. L'età anagrafica quindi per il partito saranno i vecchi... No, 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 ci sono a parte due o tre, tutto il resto saranno delle new entry, mentre per l'altra sarà quasi totalmente di new entry. New entry sotto i 30 anni? Cerchiamo di farla tendenzialmente under 35, poi ci vuole anche un minimo di equilibrio.